portano a chiedere non a noi quindi autogestiamoci la storia ti paghiamo lo stipendio lo sai che te lo paghiamo noi lo stipendio ci faccio stipendio stiamo pagando noi lo spazio e la polizia sta giocando e lei mi ha evitato lei mi ha evitato che ci fa con l'arroganza è strabottente perché a lei non viene fregolzato perché ci sono testi i cavoli fanno loro grazie